vediamo un po' che cazzo che cazzo fa pisci nell'angolo tu sei come ogni altro ucchio tu fa un po' di money e tu diventai una turd ho una notizia per te io sempre era una turd nooo tu eri qualcosa ma ora tu sei questo il momento, tu sei una scena vai a farmi te sei un tipo di un po' di morale un po' di morale che cazzo ma perché sei sei totalmente psicotic e se è ok sono sincero, ok? sei un hippocampo oh sì, sei un ucchio tanto più oltre a tutto Oh, sì? Beh, io non sto dietro a riparare il tuo f***o per vedere cosa ha riportato il tuo corpo! Riparla a riparare! Vedete cosa è lì, baby, perché sono pronti! Ciao? Oh, ragazzi, ragazzi, cosa succede? Ma non ti mi sta sui coglioni questi. Questi due. Ma soprattutto quello con l'omigliata blu. Madonna. Non ti mirovi l'evento. Ma, senti, ti potrai bisognava fare un'estrata di standard. Un'azienda, 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 un'azienda. Hai che di tratti. Un'azienda di te farò a ti avanti un po' di mili. Oh, non ci preoccupi. Trever è qui, è proprio il nostro pieno di money. Non ci preoccupi, ragazzi, non ci preoccupi. Oh, tu non è proprio il fatto, sarcasm. Tu f***. Un po' di volte, sono raiato, sono stati morto, sulcando sul mio pote. E il mio amico amico che si tratta da tutto il mio, per torturare me sulle errori che ho fatto, errori honesti che ho fatto una decennia fa! Noi, il nostro piccolo, siamo freddi, freddi. Ma hey, andiamo fuori e pagare 2 milioni di dollari su un freddi di rodo, freddi, per cui posso prendere gas di nervo dei freddi terroristi! Mi scusate, tu freddi ignorante! Ma sarcasmo è tutto che ho freddi! Sarcasmo! E un gioco pieno di uccoli! Sì! Benvenuti, ragazzi! E' l'ultimo te! Sì, 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 abbiamo bisogno andare, è stato bello, ma Dave ha una classe di Pilates. Ora, ricordate, ragazzi, ci guardiamo molto fuori questo. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Faccia di merda! Oh, Gesù! Allora, dare Lester un freddi. Diceva che sava qualcosa. Now, you tell them that we're driving towards Palito Bay. Hm. Ogni volta è un dramma, seguire il sottotitolo e guidare. So, we need a job. Before the jewel store, you talk about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Palito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get your guy in a wheelchair. Oh. This hayseed bank, you're gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the... all the beef farms, poor houses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. But then, what? Think about it. Where you live? Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah? Well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay? What about you? What about you? What about you? What about you? No, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. To yours are all a little out there. A little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus. Well, what is this? It's not an absence of taste, Tee. It's the opposite of taste. You should be astonished. And then there's the tattoos. The hair. The weird music. The funny toys. The niche drugs. The everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I. Abhor. Hipsters. I eat them for fun. Ha ha. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do? Self-hatred. Common hipster affliction. Well, I'll be because I'm living out here, away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up. Then the skinny lattes. And then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from L.S.? Yeah. Secondo me passano... Ecco appunto. Sti cazzi. Il giorno dopo addirittura. C'è tutto il giorno qui a... A pezzare come delle merde. C'è, non ho capito. Come on, man. Knock it off. What? Ha ha ha. Che bastard. Ha ha ha. Ha ha ha. Cazzo di psicopatico. Si, è stato un tipo patico. Hey, hey. Hey. Welcome to paradise. Come on, car's this way. Come on out here, non ti preoccupi, brother. Mark will take care of all your moisturization needs. Ma, shall we? Can we start? Can we start with this bike? Can we start with this bike? Neleno that bike. Uh, and the bank. Alla banca So per certo che esistono delle opzioni per far sì che Quello si gioca, si gioca in prima persona E quello si guida in terza persona Devo vedere un po' C'è un po' dietro, e nessuno deve fare attenzione a noi Mi piace Il posto è più attento, ha la quantità di attenzione Questo può fare Alla guardare l'allarme per sicuramente Ok Non è ideale Va costruire più per perdere questo sistema Che il rischio è pagato E noi dovremo trovare un rischio Non, 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 non Questo è il rischio Quelle sono le opzioni? Che devo sperare là? Allora Eh che cazzo Ho capito Avevo mancato Ok I brought my police scanner Drive over to the gas station Opposite the bank And we'll monitor chatter Allora 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 This is Polito Base Security Services Frequency We have a code 30 Atom Alarm going off at Blaine County Savings Bank All cars in the area Please respond Polito Cars 369N1 will be there in 50 seconds What the hell Roger that's 4 units Yeah Abbastanza veloci sono They've dispatched 4 cars in 60 seconds And more on standby And it is the 830 Victor A shots fired This is a real headache What do you got on the clock? 40 seconds This is Polito Security Any updates on the code 30 Atom? Backup ready to mobilize This is not normal The response is out of proportion Cops in this county are dirty The alarm just went off on their piggy bank Hello? Oh hey This is them What is that? A 67 second response time? 4 cars More in the wings Bad cops Garden dirty money Fuck how many We can take this Wait right here We'll see if anything about their routine suggests a weakness Polito Radio This is Polito Car 3 We have a code 12 False alarm Possibly triggered intentionally Roger that We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway And the Sonora Freeway Car-to-car searches and record checks Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair Hey! Wheelchair or not We're still faster than your ass Bo, scegliamo Trevor Vaffanculo, va We've got to go We're going We're running Trevor He'll be the one running Eh dai Sali Per Dio Oh Andiamo 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 Andiamo